Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, iniziamo con la rete tramviaria da oggi ai parioli lavori sui binari di Piazza Ungheria. Per quel che riguarda il servizio tram è sostituito da busso lungo tutto il percorso quello della linea 2, navette anche per le linee 3 e 19 tra Porta Maggiore e Capolinea di Valle Giulia e Piazza Risorgimento. Per un cedimento del manto stradale via del Forte Braschi è chiusa tra via Battistini e via della Pineta Sacchetti e per un discesso stradale su via di Casalotti la linea di bus 027 in arrivo da Pantà Monastero è deviata su via della Cellulosa e via di Santa Seconda.